Molti cittadini ci hanno segnalato un problema che io sono venuta ad esporre qui nella sede del Codacons e ne parlo con l'Avvocato Ruggeri. Sostanzialmente chi vuole aderire alla pace fiscale nella sezione che consente di saldare il suo debito relativamente al pagamento del bollo auto, della tassa automobilistica, perché ha accumulato una serie di bolli non pagati, si vede in Abruzzo rispondere dalla SOGET che è la società di riscossione che la SOGET non aderisce. E' così e eventualmente cosa può fare un cittadino abruzzese per non essere da meno rispetto ad un cittadino di un'altra regione dove invece si può andare alla società di riscossione ex Equitalia, mettersi lì e dire ok toglietemi gli interessi, fatemi le rate, insomma trattare qualcosa. Purtroppo corrisponde al vero, nel senso che siccome i bolli auto qui vengono riscossi dalla SOGET è chiaro che non si può aderire a nessuna misura. In ogni caso noi stiamo approfondendo meglio la normativa per cercare di capire se ci sono vie di uscita per consentire anche ai cittadini abruzzesi di eventualmente pagare i bolli senza le sanzioni e interessi. Se io regione devo prendere i soldi del bollo da un cittadino, vado in automatico dalla SOGET o posso andare, posso scegliere anche di andare nella ex Equitalia? Una scelta che poi compete agli organi politici, credo che vengano fatte tutta una serie di valutazioni, tra cui quelle anche dell'economicità sostanzialmente. I provvedimenti sulla pace fiscale si articolano in una serie di misure a favore del contribuente. Una prima misura è quella che prevede il saldo e stralcio di tutte le cartelle di importi inferiori a 1.000 euro che sono state iscritte a ruolo tra il 2000 e il 2010. Poi un'altra misura è quella della rottamazione ETER che consente di pagare le cartelle che sono state iscritte a ruolo tra il 2000 e il 31 dicembre del 2017 senza le sanzioni e gli interessi, dando tra l'altro possibilità di rateizzare in 5 anni con l'applicazione di un interesse molto basso del 2%. Bene, allora io le do appuntamento, però fra qualche giorno, non so perché ci vorrà un po' di tempo per studiare questa legge che è di 500 pagine. Sono tantissimi quelli che vorrebbero mettersi in regola, ma non ce la fanno. Grazie della stima e della fiducia, ci proveremo.